Dopo tre giorni di ricerche è stato purtroppo trovato senza vita l'87enne marignanese Giovanni Pangrazi. Il suo corpo era tra gli arbusti a fianco del Ventena. Vandali ancora in azione contro il cantiere alla collegiata di Sant'Arcangelo. La prontezza del parroco ha evitato che un incendio causasse danni pesanti. Il capodanno tra ristoranti e piatti tipici ma a tre giorni dalla notte di San Silvestro c'è chi ancora deve decidere. Presentato il manifesto del meeting 2024 dal presidente Scholz le prime anticipazioni. Ci sarà una mostra sullo scrittore McCarty. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg. Dopo tre giorni di ricerche è stato purtroppo trovato senza vita Giovanni Pangrazi, l'87enne di San Giovanni in Marignano di cui non si avevano più notizie dal giorno di Natale. Il suo corpo è stato rinvenuto a metà giornata vicino al torrente Ventena, non lontano dal nuovo ponte di via Brenta. Il corpo era in mezzo a dei fitti arbusti e non era visibile a occhio nudo. Per rintracciarlo è stato decisivo il fiuto di un cane del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. La prima ispezione cadaverica ha escluso segni di violenza e ha accertato il decesso per cause naturali. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. Da una prima ricostruzione Pangrazi, a cui di recente era stata diagnosticata una lieve forma di demenza senile, avrebbe perso l'orientamento, arrivando a vagare nei campi che costeggiano nel Ventena, sarebbe scivolato accidentalmente su un piccolo dislivello fino al greto del torrente. Nonostante la caduta, avrebbe però trovato la forza di rialzarsi e risalire il piccolo pendio, poi probabilmente un improvviso malore lo ha fatto accasciare nella radura. I suoi vestiti erano bagnati, segno che è anche finito in acqua. Nella mattinata di Santo Stefano, il cantiere per il restauro della chiesa della collegiata Sant'Arcangelo è finito ancora nel mirino dei vandali, che hanno appiccato il fuoco al deposito di travi in legno nel giardino di fianco al sagrato. Attorno alle 9.30 Don Giuseppe Bilancioni, che in quel momento si trovava in casa, è stato avvertito da alcuni passanti del principio di incendio, ha imbracciato un estintore ed è riuscito a spegnerlo, evitando che le fiamme raggiungessero il cumulo di materiale accatastato nella piazzetta Balacchi. Alcune travi sono andate distrutte e anche un pino marittimo ha subito danni della corteccia. È stata presentata denuncia ai carabinieri, già in passato c'erano state azioni vandaliche da parte di ignoti per le quali i sacerdoti della comunità di Sant'Arcangelo avevano espresso forte preoccupazione, temendo intenzioni intimidatorie. È stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di Stolkin, il 31enne tunisino che l'altra notte ha colpito con calci e un coltello la porta di casa dell'uomo con cui in passato avrebbe avuto una breve frequentazione. Le volanti sono intervenute alle 4.15 in un condominio di Rivazzurra dove erano state segnalate grida e richieste di aiuto. Il proprietario dell'appartamento, un quarantenne italiano, ha raccontato agli agenti che il nordafricano conosciuto a settembre aveva iniziato a tempestarlo di telefonate e messaggi. L'altra notte se lo sarebbe ritrovato davanti alla porta di casa dove ubriaco pretendeva di entrare. Il quarantenne allora si è barricato all'interno, chiamando la polizia diversa la versione fornita dal tunisino, che ha parlato di una festa tra amici nell'abitazione del quarantenne, dalla quale sarebbe uscito dimenticandosi il cellulare. Questo è il motivo del suo ritorno nella palazzina dove però il proprietario di casa si sarebbe rifiutato di farlo entrare. In attesa della prossima udienza, fissata per il 15 gennaio, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Parliamo di commercio. Per i piccoli negozi riminesi, l'online non decolla. In un tempo di forte crisi del commercio divicinato, con tante attività che abbassano la sala cinesca, la Confcommercio di Rimini ha approvato a indagare alcune tendenze sia tra i commercianti che tra i clienti. Solo il 15% dei negozi di prossimità riminesi vende anche online, ma i due terzi di coloro che si sono aperti al digitale realizzano un fatturato che supera il 30% del totale. Il dato emerge dalla ricerca realizzata dal Centro di Assistenza Tecnica di Confcommercio Rimini, che ha intervistato un campione di negozianti. Molti, motivando la loro scelta di vendita esclusivamente in negozio, rimarcano il valore del rapporto diretto, della consulenza e dicono di non voler cedere alla spersonalizzazione dei rapporti. Un secondo aspetto indagato è ciò che potrebbe essere messo in campo per incrementare il fatturato. Per il 76% dei commercianti l'azione più significativa è l'organizzazione di eventi culturali o artistici in prossimità dei negozi. La commercializzazione dei prodotti locali, con il 60% di operatori molto interessati e un 17% che già lo sta facendo, è un altro aspetto che valorizza il commercio di vicinato. I negozianti vorrebbero creare alleanze strutturate con i produttori locali. Risulta inferiori invece l'interesse per i programmi fedeltà rivolti ai consumatori. Il 39% non ritiene siano incentivanti. La ricerca ha poi analizzato anche i comportamenti dei clienti. Oltre il 90% dei cittadini intervistati si dice d'accordo sull'importanza di valorizzare le attività di vicinato, anche perché la presenza di queste aumenta la percezione di sicurezza nei quartieri ed evita il degrado. Si tratta inoltre di luoghi di relazione umane, di garanzia, di servizi, soprattutto per le persone più in difficoltà e per gli anziani. E sono i ristoranti, gli esercizi che per la notte di Capodanno hanno le maggiori aspettative. I menù sono ormai pronti, ma a pochi giorni dalla notte di San Silvestro c'è anche chi è ancora indeciso. In famiglia, a casa con gli amici, nei locali o in veri e propri veglioni per tirar tardi, siamo ormai prossimi a Capodanno e fermono i preparativi per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Grandi protagonisti dei veglioni saranno ovviamente i piatti della tradizione e un'indagine di Feder Consumatori ha stimato che gli aumenti più significativi riguarderanno soprattutto il pesce, la frutta e i dolci. Per chi sceglierà di preparare a casa un menù classico, che include antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e spumante, il costo si attesterà a 52,13 euro a persona, con un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente. Numerose invece le città, che adotteranno un numero chiuso di accessi nelle piazze per motivi di sicurezza. Perisco a casa quest'anno. Ma resterò a casa con la mia famiglia e saremo tranquilli a casa. Quindi tu preferisci sempre casa piuttosto che locali, eccetera? Sì, 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 in famiglia. Cosa cucinerete? Un classico zampone con le lenticchie e forse il giorno dopo del pesce. Penso in casa con qualche parente, amico. E menù? Non è programmato. Si arriva sempre all'ultimo minuto, vero? Non sono più nell'età di programmare queste cose. Penso spaghetti e le vongole. Io da amici. È sempre la cosa migliore, secondo te? No, beh, dipende. Cioè, se si riesce a organizzare, sì. Si mangia menù casalingo, quindi qualcuno cucina? La solita festività, diciamo. Quindi ci si abbuffa? Ci si abbuffa. È stata una cosa forse un po' più consumistica oppure non la pensa così? Diciamo consumistica ma ancora di famiglia. Comunque sia, buon appetito a tutti. Stanno prendendo forma mostre, convegni e spettacoli del Meeting in programma dal 20 al 25 agosto prossimi in Fiera a Rimini. Il titolo della 45esima edizione è Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? Da una frase dello scrittore americano Cormac McCarthy, dal presidente del Meeting Schultz, in occasione della presentazione del manifesto, anche alcune anticipazioni sull'edizione 2024. Dobbiamo chiederci che cosa veramente vogliamo tramandare le future generazioni. Cosa vuol dire educare oggi? Cosa vuol dire dare ai ragazzi la certezza di poter affrontare un futuro che è pieno di incognite? Cosa dobbiamo guardare per creare un mondo del lavoro veramente dignitoso? Per superare la disuguaglianza che sta crescendo? E non per ultimo, cosa possiamo dirci rispetto ai grandi conflitti mondiali che stanno crescendo, che stanno raggiungendo il livello di un'atrocità che pensavamo superata? Tutto questo saranno temi che affronteremo al Meeting. Sicuramente il tema dei conflitti e della pace sarà centrale. Lavoreremo anche molto sull'educazione perché dobbiamo aiutare le future generazioni ad affrontare come protagonisti la vita del mondo che è molto complessa, molto difficile. Ma io sono certo che i ragazzi di oggi saranno capaci di creare un mondo migliore di quanto loro l'hanno incontrato. Sicuramente avremo una mostra su Cormac McCarthy, che è l'autore dal quale abbiamo preso il titolo. Avremo mostri sull'arte, come tutti gli anni cerchiamo di rendere presente, perché la bellezza è un aspetto essenziale della vita, tanto per entrare anche già un attimo nel titolo, perché la bellezza ci dà la possibilità di rigenerarci, di guardare ciò che è veramente importante nella vita. Poi avremo spettacoli musicali, teatrali, sempre di alto livello. Non è mai scontato, ma sono fiducioso che anche l'anno prossimo potremo presentare un programma molto interessante e con protagonisti importanti. L'essenziale è un punto sorgivo da una parte e un punto d'arrivo dall'altra. E questa dinamicità dell'essenziale spero che venga visualizzata bene in questo manifesto. Prosegue la nostra carrellata su fatti e personaggi del 2023 che si sta per chiudere. Oggi siamo al mese di aprile. Si è concluso con sei condanne e dodici assoluzioni il processo di primo grado sugli appalti del comune di Rimini, Tecnopolo e Acquarena. L'amministrazione si era costituita parte civile e dovrà essere risarcita. A Rimini un murales con un uomo che ha lato neonato al seno divide l'opinione pubblica. Polemica distanta tra il consigliere regionale Montevecchi e il sindaco Sadegolvad. Cancellato nella notte dai gnoti il murales dell'uomo che allatta in via Savonarola a Rimini. Un gesto che ha scatenato ulteriormente il dibattito. Vieni oltre. Nell'incontro pubblico al Teatro Galli, Rimini lancia logo e slogan per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2026. Vieni oltre. Non tragga in inganno l'evidente sgrammaticatura. Segno semmai di una città come un pastrocchio, più propensa all'anarchia di un disordine creativo che non ha un'ordinaria insignificanza. Si è spento a 94 anni l'ex senatore riminese Armando Foschi, storico esponente della democrazia cristiana. Per quasi tre decenni ha rappresentato Rimini in Parlamento. Ci veniva un senso di colpa quasi prendere questi soldi abbondanti rispetto al lavoro che si è fatto in Parlamento. Nel mio piccolo, gli incontri che faccio con le persone che chiedono a volte dei pareri, se non altro un po' di saggezza a chi ha 90 anni ci dovrebbe essere, se no non arriva più. Calcio il Rimini pareggia al Neri con le Fiorentuola 1-1. L'ennesimo pari non piace ai tifosi biancorossi che contestano col lancio di ortaggi fuori dallo stadio. La Galleria Santa Croce a Cattolica ospita la personale anime con opere di Guerrino Bardeggia, pittore, disegnatore, ceramista e scultore gabiccese. 135 le opere di vario genere in esposizione. Pittore, disegnatore, ceramista e scultore. Tutte le anime artistiche di Guerrino Bardeggia sono in mostra alla Galleria Santa Croce di Cattolica, dal 16 dicembre e lo saranno fino al 24 marzo 2024. Il titolo della rassegna è proprio la parola animae, scritta in latino, una celebrazione di ciò che è stato creato dall'artista gabiccese scomparso nel 2004 durante la sua vita, partendo dagli albori dei suoi studi e terminando con l'apice della sua poetica. La mostra prevede anche due visite guidate, la prima il 3 marzo 2024 alle 17, curata da Alessandro Giovanardi, e la seconda il 17 marzo, sempre alle 17, insieme a Lara Badioli. La stessa Lara Badioli ha curato anche il catalogo della mostra, su cui trovare le immagini delle 80 opere esposte, dai disegni realizzati in età giovanile ai piatti maiolicati e incisi con punta di diamante, dalle sculture in terracotta policroma agli oli che rappresentano il proposito artistico più energico. Grande spazio dedicato soprattutto all'ultima fase della sua produzione artistica, con protagonisti collage che riproducono visioni metafisiche. Guerino Bardeggia ha mosso i suoi passi a Gabicce Mare, a Cattolica, ottenendo le chiavi d'oro della città di Cattolica nel 1997, da parte del sindaco Micucci, proprio perché riuscì a portare l'ustro alla città di Cattolica. Questo per noi è un momento veramente molto importante, soprattutto perché questa è una retrospettiva che permetterà di indagare anche il Bardeggia più riflessivo, più consapevole, mostrando tutti quelli che sono gli spaccati della sua carriera artistica, e sarà veramente una mostra estremamente ricca, che farà piacere a tutti quanti venire a vedere. L'obiettivo era proprio quello di far conoscere alla città opere meno note, o meglio, una sua poetica più recente, che non è stata forse così conosciuta come le sue opere più importanti e più note. L'attenzione è proprio su questo aspetto di un artista che tutti conoscono, tutti magari hanno anche all'interno delle loro case, però aprire un momento di riflessione critica su questo aspetto ci sembrava particolarmente importante. Una notizia di calcio, il Rimini Football Club comunica la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante classe 2004 Lorenzo Di Dio, un contratto di apprendistato. Arrivato in estate dalle giovanili del Pescara, Di Dio in questa stagione ha avuto poche occasioni di scendere in campo. Siamo in conclusione, vi ricordo la nostra piattaforma video IcaroPlay e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione, l'agurio di una buona serata.